L'ultimo saluto a Raffaella Carrà verrà trasmesso in tv, cambia così la programmazione di Rai e di Mediaset 8-9 luglio. Vediamo che cosa accadrà in questi due giorni. La scomparsa di Raffaella ha lasciato tutti senza parole e in questi giorni tanti fan l'hanno sempre sostenuta e seguita in televisione e possono dargli anche l'ultimo saluto. Infatti è stata aperta proprio una camera ardente per salutare Raffaella Carrà un'ultima volta. Intanto nella giornata di oggi 8 e domani 9 luglio sono previsti dei cambi di programmazione con programmi dedicati proprio alla conduttrice considerata la regina della televisione italiana. Nella giornata di oggi sui canali Rai e Mediaset ci sarà un cambio di programmazione e saranno dedicate vari programmi proprio a Raffaella Carrà. Apparizioni sue televisive da canzonissima allo show condotto con Mina, passando per le varie interviste che Raffaella nel corso di questi anni ha rilasciato per vari programmi Rai e non solo. Invece nella giornata di domani, quindi 9 luglio, il funerale di Raffaella sarà trasmesso in diretta. Alle ore 12 sono in programma i funerali della conduttrice televisiva e saranno trasmessi sia da Rai che da Mediaset. Per essere più precise nel dettaglio, a partire da domani alle 11 e un quarto è previsto uno speciale del TG4 che seguirà la diretta della cerimonia funebre. Naturalmente sul Rai 1 ci sarà uno speciale proprio del TG1 che andrà in programma dalle 12 in poi. In serata poi alle 8 e mezza andrà in onda un omaggio speciale proprio a Raffaella Carrà dove verranno proposti i momenti più belli della sua lunga carriera e del suo grande successo in tutto il mondo. Lo speciale sarà in onda fino alle 10 di domani sera. Questi sono gli aggiornamenti degli ultimi due giorni per quanto riguarda la nostra amatissima Raffaella e in tanti VIP soprattutto stanno andando a dare l'ultimo saluto alla nostra amata Raffaella Carrà. In primis in modo particolare ad arrivare è stata la conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi.